Dal Libro della Sapienza Egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamola alla prova con violenza e tormenti per conoscere la sua amitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamola a una morte infamante perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Il Signore sostiene la mia vita. Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Il Signore sostiene la mia vita. Poiché stranieri contro di me sono insorti e prepotenti insidiano la mia vita, non pongono Dio davanti ai loro occhi. Il Signore sostiene la mia vita. Ecco, Dio è il mio aiuto. Il Signore sostiene la mia vita. Ti offrirò un sacrificio spontaneo. Loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. Il Signore sostiene la mia vita. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo Fratelli miei, dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace, viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni, che fanno guerra nelle vostre membre? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere? Uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere? Combattete e fate guerra. Non avete, perché non chiedete? Chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù e i Suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma Egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti i Suoi discepoli e diceva loro «Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarno. Quando fu in casa, chiese loro «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo posi in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me e chi accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato».